Apertura della curva nord anche ai salernitani, copertura dello stadio Arecchi di Salerno per un'accoglienza ottimale di una tifoseria sempre più numerosa, l'attivazione di finanziamenti per ammodernare e ridare dignità allo storico stadio Vestuti di Salerno. Sono solo alcuni degli auspici del consigliere comunale Rino Avella che nel pomeriggio di ieri ha preseduto la quarta commissione consigliare permanente sport, politiche giovanili e innovazioni che si è riunita presso lo stadio Arecchi di Salerno per verificare i lavori fatti e per l'acquisizione del dettaglio di quelli previsti. Per il sopralluogo con il presidente Rino Avella, anche il vicepresidente consigliere Pino D'Andrea e i consiglieri membri Barbara Figliolia, Antonio Carbonaro e Arturo Iannelli. In occasione dell'esordio in campionato della Salernitana di domenica 14 agosto, quando i Granata affronteranno in campo la Roma, lo stadio si presenterà in una veste rinnovata ma non ultimata. Ieri siamo stati alla Arecchi insieme al direttore Giovanni Saracino e ai membri della commissione sport. Abbiamo verificato lo stato dei luoghi, soprattutto i lavori realizzati e quelli che stanno in programmazione, ma soprattutto per chiarire le competenze del comune nella realizzazione dei lavori e quelle che poi d'accordo, da convenzione, quelle che dovranno poi fare quelle della Salernitana. La curva nord sarà aperta ma sarà destinata solo al settore ospite? Sì, purtroppo lì è la questione, diciamo la madre di tutte le battaglie, sarà l'apertura della curva nord, perché là c'è bisogno di un grossissimo investimento oltre alla fornitura dei tornelli. Io spero che entro quest'anno la Salernitana, il comune, in grande sinergia, possano davvero dare questa spinta finale per l'apertura della curva nord. Saranno tanti gli accessi previsti allo stadio Arecchi, ci sarà un piano traffico che anche questa volta fa storcere il naso comunque a non poche persone e anche a chi gestisce attività commerciali. Ma sicuramente, questo so che l'amministrazione si è attivata per il piano traffico e poi oltre il piano traffico dobbiamo prevedere alcune situazioni che ho segnalato anche all'assessore Trincale, anche il discorso dei parcheggiatori abusivi, tutta una situazione che intorno allo stadio Arecchi non deve esistere. Quindi anche un po' di recupero rispetto ai tanti tifosi che si regheranno allo stadio. Sono invece previste novità per quanto riguarda il rinnovo della convenzione tra comune di Salerno e Salernitana? Sono previsti incontri? No, in questo momento no. Logicamente il sindaco per quanto riguarda questa prima convenzione bondio di un anno poi penso che l'impegno da parte del comune, dell'amministrazione e anche della Salernitana è la copertura dello stadio Arecchi e quindi dare una riammodernazione finale affinché questo stadio continua a rivivere il suo prestigio e verso una tifoseria che sarà sempre numerosa perché spero che la Salernitana inaugurerà questa stagione con risultati positivi. Lei parla di riammodernamento dello stadio Arecchi, c'è chi guarda invece anche allo storico stadio Vestuti, si era parlato di un progetto di riqualificazione, a che punto siamo? Io penso che l'assessore Brigante ci sta lavorando su questo ragionamento del finanziamento sui PNNR. Noi come Commissione saremo attivi a pungolare, a avere delle notizie così importanti da poter poi dare questo stadio Vestuti che è la nostra storia e spero che davvero anche se abbiamo fatto dei piccoli interventi ma è logico che c'è bisogno di un ammodernamento importante e finale. Io spero che l'amministrazione anche in questo lasso di tempo potrà dare dignità anche al Vestuti. Ci siamo come amministrazione ma soprattutto anche come Commissione Sport cercando di capire puntualmente le azioni che bisogna fare per dare risposte concrete ai cittadini ma soprattutto a tante associazioni sportive che frequentano lo sport.